ben ritrovati al tele 5 il nostro ospite odierno è stefano domenicali amministratore delegato e presidente di lamborghini fermano te la parola buongiorno stefano e grazie della disponibilità e grazie ad alberto che ci ha introdotto abbiamo parlato con con il direttore del sole 24 ore ieri trattando di quella che è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale ma che probabilmente ci porta già immediatamente nella quinta rivoluzione industriale cosa ne pensi innanzitutto ciao armando buongiorno a tutti sai qui non è un problema di definizioni è un problema di capire è quello che stiamo vivendo tutti insieme a livello globale cosa porterà a livello di cambiamenti organizzativi per le società e a livello di cambiamenti comportamentali per le persone coinvolte io credo sotto questo profilo che quello che ci dobbiamo portare a casa e lo dico dal punto di vista ripeto imprenditoriale organizzativo è capire quali saranno i meccanismi diversi di relazioni con i clienti o con vis-à-vis con invece le relazioni interne per capire se ad esempio tutto questo approccio estensivo al concetto di smart working per le funzioni che lo possono fare può essere integrato per il futuro in maniera diciamo il più efficiente possibile anche nelle aziende di carattere manifatturiero perché qui il concetto è capire fino a che punto diciamo le funzioni che non sono legate alla produttività possono essere gestite in maniera diversa quindi io credo che sotto questo profilo sicuramente dovremmo superata questa fase di crisi o di gestione di crisi e cercare di mettere in piedi una task force per analizzare quelli che saranno i meccanismi che dovremmo gestire in maniera diversa nel futuro. Io credo che però bisogna evitare come dire un approccio di rivisitazione complessiva di tutti gli elementi in una base di short time nel senso che ovviamente questa crisi ci porterà a vivere e a convivere con questa nuova situazione per un tot tot di mesi in una maniera totalmente come dire discontinua e a cui non eravamo assolutamente abituati e non saremo abituati perché qui parliamo tanto ma non abbiamo ancora capito quello che dovremmo fare. Però dobbiamo vederla dopo quando torneremo alla situazione di normalizzazione perché questo è l'obiettivo di chi ha il compito di vedere in maniera strategica la vita del mondo dal punto di vista relazionale dal punto di vista imprenditoriale. Io credo che in questa fase di emergenza dovremo rivedere tante cose ma dobbiamo impostare per capire bene quello che dovremmo fare nel momento in cui torneremo a una vita normale perché lo dico sempre, lo dico a me stesso, se io guardo da qui in avanti i tempi mi sembrano assolutamente lunghissimi se io guardo quello che è passato mi sembra che il tempo passi ad una velocità spaventosa e quindi sotto questo profilo io credo che la capacità dell'uomo di digerire determinate situazioni sia straordinariamente importante e possa condizionare anche i meccanismi della ripresa. La rivoluzione industriale per quello che può essere è sicuramente l'analisi scientifica di tutte le cose che abbiamo detto nella definizione operativa di quelli che saranno i meccanismi che dovremmo a livello, io per le responsabilità che ho ovviamente, mettere in pratica a livello aziendale. Questo lima di, io dico, ostentato, quasi artificioso ottimismo, secondo te è sufficiente per pensare che avremo una ripresa AV o ADL? Sai, l'ottimismo fa parte di quei meccanismi psicologici che rappresentano una reazione a un contesto che ti fa soffrire. L'ottimismo ti aiuta ad accelerare i meccanismi che ti possono dare una sicurezza psicologica in un contesto che, l'ho detto prima, nessuno conosce. Perché noi siamo anche, per la prima volta, quello che ci sta attraversando è un qualche cosa che coinvolge culture e sensibilità diverse. E l'aver affrontato e dover affrontare questo problema in maniera diversa è chiaro che è collegata a un meccanismo relazionale che è insito nella cultura e in quello che siamo noi stessi. Quindi la reazione con l'approccio ottimista ti fa vedere le cose possibili. E quindi sotto questo profilo benvenga all'essere ottimisti. Però bisogna essere realisti nel senso di capire che per una fase, speriamo il più breve possibile, del nostro tempo non potremo più vivere come prima. Questo tutti quanti non stiamo, come dire, cercando di metabolizzare. Però non l'abbiamo capito, parlo per primo, è sottoscritto. Perché qui parliamo di comportamenti che vanno dai comportamenti dei ragazzi, dei teenager, delle persone, diciamo, di una certa età, delle persone più anziane, e certe cose che dobbiamo rispettare per far sì che questo virus venga contenuto non è assolutamente banale fare in modo che tutti le possano seguire. Quindi dovremmo veramente capire come vivere questa prima fase della ripartenza che sarà sicuramente fondamentale per far sì che il periodo sia più stretto possibile. Però, Ermano, essere ottimisti è un vantaggio e quindi speriamo che possa aiutare a lavorare bene perché essere ottimisti non vuol dire non essere professionisti o razionali nei comportamenti che dovremmo modificare. Un po' di anni fa, Reiner e Rodolf, avevano fatto questa splendida analisi con questo libro che era uscito, che era appunto titolato Questa volta è diverso, riferendosi all'ultima crisi e quindi analizzando oltre sei secoli di crisi importanti soprattutto dal punto di vista finanziario. Anche questa sarà ovviamente molto diversa rispetto al passato. Sì, è sicuramente una situazione diversa che non ha mai vissuto nessuno nell'epoca moderna. È chiaro che dobbiamo affrontarla con una capacità di, ripeto, buttare lo sguardo strategico oltre il periodo di crisi, nel senso oltre il periodo dell'emergenza, perché questo è un tema fondamentale. Io credo che un elemento che stiamo purtroppo non gestendo nella maniera migliore è la condivisione di una modalità unica nel dover ripartire. La globalizzazione nella quale siamo tutti dentro, perché insomma bene o male viviamo in un modo globalizzato, non può assolutamente vedere una ripartenza se non c'è un approccio condiviso tra i vari paesi, a livello politico, a livello industriale, a livello relazionale, a livello sociale, perché questo se no comporterà ancora di più dei problemi che dovremmo gestire in maniera diversa. Quello che dobbiamo portarci a casa da questa crisi è, io credo in maniera abbastanza evidente, che il rinchiuderci in noi stessi porta a dover gestire delle problematiche che più avanti saranno ancora più importanti e più grandi. Quindi se non cogliamo a tutti i livelli questa esigenza, noi perdiamo una grandissima opportunità per rivedere il mondo in un'altra veste, in un'altra dimensione. Quindi io spero che tutti quanti noi, a qualsiasi livello, possiamo capirlo ed indirizzare questa modalità operativa che diventa lo strumento necessario per far sì che il mondo diventi migliore e più efficace nelle relazioni tra le varie persone. Direzionare meglio quindi gli sforzi. L'ultima cosa di questa è che ti volevo esporre, anzi che l'Alberto che voleva formulartela. Cambieranno le priorità dei cosiddetti positional goods secondo te? Ma è chiaro che i positional goods vivono di emozionalità e l'emozionalità è un fattore fondamentale perché i positional goods partono dal presupposto che tu hai liquidità e capitali sufficienti per poterteli permettere. Quindi io credo che dal punto di vista della ripartenza, la ripresa, nel momento in cui il concetto di emozionalità sarà di nuovo presente, tornerà a essere importante perché questa volta non parliamo di crisi di liquidità legate a chi ha portafogli importanti. Però è chiaro che non ti viene in mente il giorno dopo che riparti nel condividere un acquisto che ti deve dare la gioia di poterlo condividere o poterlo farlo vedere. Quindi all'inizio credo che ci sarà un approccio un pochettino più, come dire, conservativo, ma nel momento in cui l'ottimismo di cui parlavamo prima, la voglia di tornare a vivere, che deve caratterizzare l'uomo e ci mancherebbe altro che non fosse così, tornerà a essere importante. Io credo che sotto questo profilo tutti i beni del mondo del lusso torneranno ad avere un'importanza prioritaria per questa nicchia di mercato che in ogni modo muove tanti soldi e muove tanti lavori, tante persone che sono collegate come competenze, come professionalità a un'industria che per l'Italia, tra l'altro, è fondamentale. Grazie ancora a Stefano Domenicali e a Bocca Lusco. Arrivederci. Grazie, grazie Ermano, grazie a tutti voi e speriamo veramente di vederci fisicamente presto.